buongiorno a tutti stiamo per riprendere in diretta la santa messa che sarà celebrata in diretta nella basilica di san francesco di assisi e sarà ripresa in diretta dal sito internet della basilica noi condividiamo con il sito internet della basilica la diretta della santa messa lo stesso abbiamo fatto con le 12 sono state trasmesse dalle 6.30 fino a qualche minuto fa auguriamo a tutti una buona partecipazione alla santa messa grazie 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 pagina 92 grazie 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 e grazie 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 ai radici il coro un'anime di tutte le tue opere. Beata sei tu nei secoli, gloria o satrinità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, Gesù Cristo è il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Pietà di noi, Signore. Contro di te la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Chiesa 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 O Dio che hai promesso di abitare in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di diventare tua degna dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sopravvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo. A cosa serve? Così anche la fede, se non è eseguita dalle opere, in sé stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire, tu hai la fede, e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io, con le mie opere, ti mostrerò la mia fede. Credi che c'è un Dio solo? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere, quando offri Zacco, suo figlio, sull'altare. Fedi, la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la scrittura che dice, Abramo, credete a Dio, e gli fu accreditato come giustizia. Ed egli fu chiamato amico di Dio. Vedete, l'uomo è giustificato per le opere, e non soltanto per la fede. Infatti, infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Parola di Dio La tua legge, Signore, è fonte di gioia. La tua legge, Signore, è fonte di gioia. Beato l'uomo che teme il Signore, e nei suoi preceti trova grande gioia, potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. La tua legge, Signore, è fonte di gioia. Prosperità e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. La tua legge, Signore, è fonte di gioia. Felice è l'uomo pietoso che dà in prestito. Amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. La tua legge, Signore, è fonte di gioia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito del Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo Signore. Dal Vangelo secondo Marco. Glorio e prego il Signore. Quel tempo, convocata la folla insieme ai Suoi discepoli, Gesù gli sedono. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre Suo con gli angeli e i santi. Diceva loro, in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Parola del Signore. Gloria a Cristo. Faccia bene, cari fratelli e sorelle. La fede è la porta che ci apre il cuore per fare entrare Dio. Egli vuole venire a vivere in noi per essere l'amore che perdona. Il nostro cuore allora diventa un oceano di carità non per virtù nostra, povere creature deboli e fragili, ma per opera di Dio che vive in noi. Il cristiano ama perché non può farne a meno, anzi, proprio la sua opera di amore dimostra che Dio vive nel suo corso. Vede carità dunque quando sempre insieme finché viviamo su questa terra. La condizione per seguire Gesù è rinnegarsi se stessi, perché il regno di Dio è Gesù in persona. Per vivere in Lui e con Lui occorre essere in qualche modo conformi a Gesù, ossia abitati dallo Spirito Santo. Il regno di Dio, quindi, non è un luogo nel quale entrare con un passaporto dopo una lunga vita terrena, ma una condizione di vita, una scelta attuale, di oggi. Rindegare se stessi significa preferire Dio a noi, il suo pensiero al nostro, la sua volontà alla nostra. Il regno di Dio è una questione di amore, decidere di chi essere e a chi appartenere. Vivere con Gesù significa materialmente rimanere là dove sei, ma avendo posto il cuore e la mente in colui che ci ama e dona se stesso per noi. Facciamo bene i nostri conti allora, possiamo guadagnare il mondo intero, ma se perdiamo la vita vera, la vita autentica, la vita eterna, cioè la vita dell'Eterno, abbiamo perso il nostro tempo. Cerchiamo di coltivare questa vita piena, allora costi quel che costi. Per i fratelli e sorelle, la parola del Signore ci svela la preziosità infinita della nostra persona. L'intero universo non vale quando vale la nostra persona. Non ha presso e non può essere comutata con niente. Ma questa preziosità può essere dilapidata, la vita può fallire. La via che il Signore ci indica per evitare questa infinita tragedia è paradossale. Perdere la vita come Egli ha perduta. Il Signore ha donato se stesso e risorge in gloria di una vita immortale. Segue il Signore nella rinuncia a sé per il dono agli altri entra nella vita. E ha lodato Gesù Cristo. Sempre si è reggito.